Si è chiuso questo weekend in Messico il Mondiale Motocross 2014. Nessuna sorpresa nella MXGP, dove Cairoli aveva già conquistato il suo ottavo titolo mondiale lo scorso round in Brasile. La vittoria nell'ultimo round è andata a Gautier Polen, che ha preceduto sul podio di giornata Max Nagel, con Cairoli terzo. Ancora un'altra buona prova per Davide Guarneri, che si è piazzato settimo assoluto. Dodicesimo invece David Philippaers. Per tutti l'attenzione si sposta ora sul Motocross delle Nazioni del prossimo 28 settembre in Lettonia. Le sorprese non sono mancate invece nella MXGP. Il rientrante Hurlings non ce l'ha fatta a difendere i pochi punti di vantaggio che aveva sui suoi inseguitori. Il dolore per il recente infortunio al femore e la scarsa forma fisica hanno relegato il belga in undicesima posizione. Il nuovo campione del mondo della MX2 è Hordy Tixier. Il francese ha coronato il suo sogno mondiale vincendo il GP del Messico e dimostrandosi abile anche a mantenere la concentrazione nei momenti difficili, come in gara 1, dove è caduto nelle fasi iniziali trovando poi una grande rimonta. Arrivo d'Utri è andato in scena il penultimo round dell'italiano quad. Le classi FX1 e FX2 erano state accorpate per il basso numero di presenti e in gara 1 a trionfare è stato Perazzolo, con un bel sorpasso ai danni di Migliori, secondo. Terzo posto per Cinotti. In gara 2 partiva fortissimo Migliori e vinceva la corsa in solitario davanti a Perazzolo con Fulgeri terzo. Al traguardo a fine giornata Migliori trionfava nella FX2 su Mattia Papa e Gianmarco Monaci, mentre in FX1 il primo posto era di Perazzolo su Fulgeri e Cinotti. In gara 2 partiva fortissimo migliori e vinceva la corsa in solitario davanti a Perazzolo.